Cancelli chiusi, mezzi della raccolta fermi, lavoratori a spasso e cumuli di spazzatura a bordo strada. È riesplosa in tutta la sua gravità l'emergenza rifiuti in città. Un'emergenza che però potrebbe avere le ore contate. Almeno questa l'intenzione del prefetto di Vibo Valencia, Giovanni Bruno, che ha convocato gli 89 operai dell'Eurocop per rassicurarli circa il loro futuro. Nessuno di voi perderà il posto di lavoro, ha garantito la massima autorità territoriale del governo. Parole servite a rasserenare gli animi dei lavoratori che da settimane protestano per difendere il posto di lavoro. Rassicurazioni anche sulla questione stipendi che, ha garantito il prefetto, saranno pagati entro agosto. Al tavolo prefettizio anche il consigliere regionale Pietro Giamborino, unica assente, l'amministrazione comunale di Vibo Valencia, che però sulla questione rifiuti ha relazionato in aula. Ieri infatti si è svolta la seduta del Consiglio Comunale, nel corso del quale il primo cittadino, Nicola D'Agostino, sollecitato dal PD, ha riferito che la nuova ditta, la progetta ambiente, subentrerà tra domani e dopodomani. Lo stesso ha poi fatto sapere che il comune di Vibo sarebbe stato autorizzato a conferire in discarica 100 tonnellate di rifiuti al giorno, quantitativo, che una volta riavviata la raccolta, basterà a far rientrare l'emergenza.